salve a tutti watch kebari io sono super geomaster e oggi bentornati su super smash bros ultimate ultimate vabbè allora vi dico subito che ho sconfitto lo spirito che stava qua e ho preso questa ho preso la roba dentro la cassa dentro poi qua c'è un altro spirito e praticamente lo spirito in questione è questa anna che poi appunto quando la libererete aprirete questo c'è troverete questo negozio infatti si può anche comprare i spiriti io mi compro per esempio questa genna spirito combattente ah ok non ho soldi che palle comunque nello scorso episodio avevo detto che off camera avrei provato a battere lucina il problema è che è molto difficile già io sinceramente raga lascerei stare perché davvero ho faticato molto veramente faccio fatica batterli quei due lucina e shul che sto parlando sei sempre proprio loro due però ragazzi adesso dove cacchio bisogna andare non avevo idea ok forse ho capito dove andare ok ok da questa parte allora adesso ragazzi andiamo qua sopra perché qua e infatti qua c'è un altro personaggio da sbloccare ok facciamo una cosa qua c'è bausa allora parlando di della battaglia di lucina e shulk va bene avete visto come io proverò a farla però vabbè quello spirito potrei anche lasciarlo perdere in realtà perché non so allora comunque qua abbiamo bowser che usa appunto delle delle pistole quindi bowser adesso devo uscire adesso devo uscire adesso devo uscire ti male bowser è arrivato il momento di di attaccare aia 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 ok questo scenario è lo scenario del primo effettivo è molto bello è davvero ok aspetta è confuso boom aspetta aspetta bowser bowser verde adesso ti devo eliminare male non ci provare non provare a fare il tuo attacco per favore non provare a fare il tuo attacco tutto aia aia ok dai ragazzi che manca poco dai che manca poco bomba sconfitto bowser abbiamo preso pico pico e giusto sì molto bene oh ecco adesso possiamo appunto utilizzare quello Perfetto Un attimo Oh Lucario Lo affrontiamo? Ma si dai Voglio proprio usarlo Lucario Lucario Oh yeah Allora Lucario mio Madonna quanto fai schifo Cioè ovviamente no È un bellissimo pokemon però Dai sto Sto facendo un male cane Lucario mi sa che andrà Subito giù Mi sa di sì Aia Brutto Lucario Eh mannaggia Aia Non dovevo sottovalutare Non dovevo sottovalutare Lucario Ok aspettiamo Aspetta Ah d'azione Brutto Lucario Avanti Lucario Cerca di fare qualcosa di decente Porta Eva Non posso perdere Oh mio dio raga Sto perdendo Leggeramente Ok Battuto Che bello Lucario entra nella squadra Grande Ok adesso Che succede? Oh C'è qualcosa là Va bene Oggi Ionio Da questa parte Di qua abbiamo Merrick È un po' Vabbè Abitante Ovvio Però ragazzi Ok Direi di affrontare L'abitante Malvagio Con l'abitante No aspetta C'è Lucario Però Vabbè Lucario raga Lo voglio usare dopo Mi sembra Giusto Utilizzare Il villager Yeah Oh my god C'è Fuffi Raga Solo tu Ok Ho fatto benissimo Adesso A usare Abitante Oh my god C'è Fuffi Raga Aia Oh god Oh my god Oh my god Ok Bene Allora Aspetta 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 Devo andarmene Via da qua Ok Va bene Via te Ok Un altro andato Io Volei Muori Fuffi Ok No Aspetta Aspetta Ok Manca solamente lei E poi abbiamo finito Ok Finito Villager Is the winner Che bello Ok Abbiamo sconfitto anche questo tipo Ok La vedo che c'è qualcos'altro Però Se non erro Aspetta Da questa parte cosa abbiamo Spiriti Spiriti Cos'è questo Oh abbiamo aperto quella porta Sì infatti Quel cancello direi Però se Ecco Mi ricordo adesso Che in realtà Possiamo ritornare al circuito Ah no Invece possiamo anche passare da qua In realtà Vabbè Affrontiamo Merrick Oh Ok Però prima di tutto Cambiamo personaggio Direi adesso di prendere Lucario Perché Sembra giusto Lucario Ok Ok Siamo contro Daraen Però l'originale Si chiama Robin Daraen Non posso Se ce la faccio Vediamo un po' Ok Ecco per favore Dovresti morire Caro Ok Adesso Dovemmo eliminare Daraen Ah cacchio No Mi spiace tanto Daraen Harry Potter Perché sì Daraen è un riferimento A Harry Potter Secondo me Ma vabbè Non ho mai giocato Oh cacchio Mi ricordo questa Abilità Quella che Mi fa recuperare I punti vita Ora però Mi dovrò eliminare male Senti Senti per favore Posso eliminarti Aia Bam Vittoria Ok Lucario ce l'ha fatta Adesso possiamo anche Tornare indietro Perché Infatti qua Possiamo Usare lui Per Andiamo avanti Bruce McFire Va bene Adesso Stiamo contro Ness Ness malvagio Ness Fox E Sonic Allora Sono sopra Questo veicolo Sastronave Diciamo Adesso Vediamo un po' Cosa fare E' molto bello Però Devo mettere che Questo scenario Mi piace Molto Cosa Se l'ho fatto Non lo Me lo chiedete Oh mio dio Raga Manca solamente Fox Oh cacchiarola Oh cacchiarola Fox Mi sa che adesso Devrai morire Lucario è veramente Raga una bestia Lucario è proprio Una bestia Però invece Sì Adesso abbiamo vinto Scusa Perché non l'abbiamo vinto Scusa Dovresti Morire male Ok Fatto Sconvitti Abbiamo sbloccato Il Bruce Mcfire Lo so Devo cambiare Spirito di Evie Però Lo spirito Di Evie E' quello Che ho Più forte Quindi Adesso Tecnicamente Guarda te Là ci sarà Qualcuno Allora Da questa parte Cosa c'è Meglio andare Meglio andare Da contro Ghirowing Ok Questo è Fox Fox Dark Foxy La cosa bella È che hanno Annunciato Five Nights at Freddy's Per Nintendo Switcher Quindi Se per esempio Mettono Freddy Fazbear E Foxy In Smash Sarei contentissimo Ovviamente Non lo metteranno mai Ovviamente C'è Immaginate Che mettono FNAF In Super Smash Bros Ma dai Stiamo scherzando Addirittura Capè Di Smash Qualche Benedict Machine Smash Adesso Io caro Amichetto Dovrai Devo Spaccarti Le ossa Fire Spam Dai forza Dai forza Dai che non è difficile Dai che non è difficile Dai che non è difficile Addio Fox Mi sa che forse Sblocchiamo Fox C'è proprio il personaggio Proloculo vero Non il fantoccio Quindi adesso Mighty Gazelle Questa parte che abbiamo Aspetta voglio affrontare lui Ah Mega Man Infatti sia Il bello è che proprio Sono tornati Dei personaggi Proprio Vecchi Che nessuno Si ricorda Ok Ah ho capito Il pavimento È elettrico Infatti È giusto Che è elettrico Ah no Non è elettrico Ah si infatti No è elettrico E' elettrico proprio Allora senti Te Ti devo eliminare male Capito Ok va Aspettiamo un attimo Mega Man Muori Che bella da Mega Man Non è fortissimissimo Però almeno Il trailer Il trailer di Mega Man Era veramente bello Porca Insomma Allora Vediamo un po' Se ce la faccio Ok perfetto Dai fruttiamolo Muori Mega Man Shbam Aspetta C'è Il guscio Ah La rassione Maledizione a te Mega Man Dai Minchia Addio Mega Man Ok adesso Oh Capitan Falcon C'è qua Pensavo che c'era Fox Ma c'è Capitan Falcon Capitan Falcon Pronti Via Adesso Io vorrei appunto Sbloccarlo Capitan Falcon In realtà Quindi adesso Vediamo un po' Se ce la faccio Ok perfetto Dolci provare Brutto Cosa cacchio Era quello Dai Dall'azione Ok aspetta eh Dai cacchiarola È difficile Ah bene Sconfitto Ok abbiamo sbloccato Anche Capitan Falcon Per fortuna Quindi adesso Da che parte andiamo Allora questa parte in realtà Cupido Vabbè ragazzi Sapete la cosa Io Direi di Tornare ad affrontare Lucina Sì Voglio ritornare ad affrontare Lucina E Shulk Sì Ok perfetto Ahia raga Però Aspetta 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 Porca Eva Raga Che best Il Falcon Punch Aia però No Morite Vi prego Ok raga Preparo il Falcon Punch Ok Uno è morto Uno è morto Uno è morto Oddio C'è la Sfera Smash Come si attiva La Sfera Smash Raga Aiuto Raga non lo so Come si attiva Oh L'ho attivata Finalmente Dopo 12 Tentativi Ce l'ho fatta E quindi Questo è tutto Per questo video Di Super Smash Bros Ultimate Va bene così Raga E lo dicevamo Alla prossima Ciao ciao Alla prossima